Oltre vent'anni di carcere per passa l'acqua arriva la condanna per l'aggressione a Davide Ferrerio il ragazzo bolognese in vacanza a Crotoni con i suoi familiari avvenuta l'undici agosto del duemila e ventidue che da quel momento versa in coma irreversibile il gruppo di Crotoni ha accolto la richiesta della procura il 23enne accusato di tentato omicidio avrebbe colpito il ventunenne per un errore di persona aggressione a Crotoni i pareri opposti dei due avvocati assolutamente soddisfatto il legale della famiglia Ferrerio l'avvocato Fabrizio Gallo la sentenza ha detto restituisce un po' di giustizia parere opposto per l'avvocato Salvatore Iannone che l'ha definita una sentenza esemplare per l'opinione pubblica il progetto del ponte è ambientalmente insostenibile visita in calabria della deputata del partito democratico paola di micheli incontro per ringraziare quanti hanno sostenuto la sua mozione ma anche per rimarcare i bisogni della calabria e le emergenze legate alle infrastrutture ci batteremo a detto per stringere i tempi sulla ss 106 abbiamo fatto in un anno quello che non si è fatto in 12 anni il sindaco di cosenza franz caruso riceve una delegazione di residenti di cosenza vecchia dal primo cittadino l'appello poi alla regione calabria ci aiuti o rischiamo di vedere distrutto uno dei centri storici più belli d'italia buonasera ben ritrovati edizione serale dell'altro corriere tg lo avete sentito dai titoli del sommario era attesa per oggi la sentenza del gruppo del tribunale di crotone al termine del processo celebrato con rito abbreviato nei confronti di nicolò passa l'acqua 23 anni accusato di tentato omicidio aggravato per l'aggressione del giovane bolognese davide ferrerio ridotto in fin di vita per uno scambio di persona e per un pugno che gli è stato sferrato la sera dell'11 agosto del 2022 in città ma sentiamo nel primo servizio di questa sera come è andata vent'anni e quattro mesi è la pena inflitta dalla giudice dell'udienza preliminare del tribunale di crotone alvezia cordacqua al 23enne nicolò passa l'acqua autore dell'aggressione a davide ferrerio il ragazzo bolognese in vacanza in città con i suoi familiari avvenuta all'11 agosto dello scorso anno e che da quel momento versa in coma irreversibile il gruppo è andato oltre la richiesta del pubblico ministero pasquale festa che aveva sollecitato per passa l'acqua la condanna a 20 anni di reclusione pena già scontata di un terzo per via del rito abbreviato con il quale è stato celebrato il processo per l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi futili e abietti e dalla minorata difesa della vittima il difensore di passa l'acqua l'avvocato salvatore jannone aveva chiesto la derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime ritenendo che il pugno inferto dallo stesso passa l'acqua sulla tempia sinistra di ferrerio non avesse provocato alcun danno oltre alla presenza di condanna di passa l'acqua il giudice cordasco ha emesso un'ordinanza di rinvio a giudizio per altri due imputati anna perugino e il suo compagno andrei gaitu accusati di concorso anomalo intentato omicidio la perugino è la madre della ragazzina all'epoca ancora minorenne al centro della vicenda poi degenerata nel pestaggio di ferrerio scambiato per un'altra persona perugino e gaitu compariranno il 15 giugno prossimo davanti al tribunale di persone siamo molto soddisfatti della sentenza perché il giudice ha condannato il passa l'acqua a 20 anni e 4 mesi di reclusione dando addirittura come risarcimento di danni un milione e 40 a Davide in proprio e poi 200 mila euro per le parti civili e quindi noi siamo assolutamente soddisfatti di questa di questa sentenza perché restituisce un pochettino di giustizia nei confronti di quello che è accaduto nei confronti di un ragazzo che purtroppo sta in condizioni disperate e quindi non abbiamo vinto in realtà però almeno la giustizia ha fatto il suo corso e ha funzionato e siamo molto contenti di quello della sentenza che è stata combinata a questo ragazzo è una sentenza pesante una sentenza che vedremo il giudice dopo i 90 giorni quando depostare le motivazioni come la motiverà perché comunque una sentenza pesante è corre obbligo di motivarla non sono sicuramente soddisfatto di quello che è la sentenza è un fatto grave è un fatto che meritava sicuramente una punizione ma questa sentenza esemplare è data in bocca solo ed esclusivamente per l'opinione pubblica e così non si fa la giustizia italiana a mio parere non ho mai visto questa è la prima volta che mi capita ne confrontavo anche con i miei colleghi una sentenza pur riconoscendo un tentato omicidio per 20 anni e riconosciuta 20 anni con le diminuzioni del retino abbreviato quindi questa è vedremo adesso le motivazioni poi decideremo con la famiglia cosa vogliono fare assolti per non aver commesso il fatto questa la sentenza dei giudici della corte d'assisi di catanzaro nei confronti di rosario battaglia e michele fiorillo alias zarrillo accusati di aver organizzato e messo in pratica l'omicidio di antonio de pietro sindacalista ucciso l'undici aprile del 2005 davanti al cimitero di piscopio da rosario fiorillo alias pulcino cugino di battaglia e zarrillo che sta già sostenendo il processo davanti al tribunale dei minori perché all'epoca dei fatti era poco più che quindicenne assolti per non aver commesso il fatto non ha retto davanti ai giudici della corte d'assisi di catanzaro inchiesta costruita dalla direzione distrettuale antimafia sull'omicidio di antonio de pietro e che vedeva accusati rosario battaglia michele fiorillo alias zarrillo de pietro fu assassinato a colpi di pistola alla testa e al collo davanti al cimitero di piscopio nel vibonese l'undici aprile del 2005 da rosario fiorillo alias pulcino cugino di battaglia e zarrillo che sta sostenendo il processo davanti al tribunale dei minori perché all'epoca quindicenne secondo la tesi accusatoria smontata ora dalla corte quello di de pietro sarebbe stato un omicidio ideato e messo in pratica dagli imputati secondo la ricostruzione sia battaglia che fiorillo avevano progettato il piano micidario per aiutare il giovane fiorillo a lavare l'onta del disonore la mamma maria concetta immacolata fortuna avrebbe avuto una relazione extra coniugale con de pietro a causa della quale la donna stava dilapidando il proprio patrimonio una tesi portata avanti dai collaboratori di giustizia ascoltati nel corso del processo tra cui andrea mantella un caso di cronaca complesso da decifrare perché nel 2005 le tecnologie forensi non erano quelle di oggi e soprattutto non c'erano ancora i collaboratori di giustizia la svolta nell'inchiesta arriverà solo in seguito alle prime dichiarazioni di raffaele moscato profondo conoscitore delle dinamiche criminali episcopisane poi con il pentimento di andrea mantella ex boss di vibo valencia e infine con bartolomeo arena accuse che però non hanno retto davanti alla corte d'assise di cadanzaro continuiamo con la cronaca e parliamo dell'operazione eseguita dalla guardia di finanza di reggio calabria che ha portato al sequestro di 87 mila litri di liquidi contaminati da miscele di idrocarburi intercettati e cautelati nell'impianto del depuratore i dettagli nel servizio 87 mila litri di rifiuti liquidi contaminati da idrocarburi sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di reggio calabria unitamente al personale specializzato della capitaneria di porto di gioia tauro nell'ambito di un'attività coordinata dalla procura della repubblica presso il tribunale di palmi diretta da emanuele crescenti i liquami contaminati da miscele di idrocarburi sono stati intercettati e cautelati nell'impianto del locale depuratore le operazioni finora condotte anche grazie al contributo e alle precauzioni adottate dal gestore del depuratore hanno consentito di sequestrare le pericolose miscele inquinanti evitandone così lo sversamento in mare ed il potenziale danneggiamento dell'intero ecosistema marino l'attività coordinata dalla procura della repubblica di palmi è condotta in maniera sinergica da guardia di finanze e capitanere di porto è frutto del tangibile e costante impegno istituzionale di presidio realizzato a tutela del territorio anche nel settore ambientale al fine di prevenire fronteggiare ogni comportamento non rispettoso delle procedure legali di smaltimento dei rifiuti ebbene questa l'ampia pagina di cronaca noi voltiamo pagina adesso ci occupiamo dei temi politici e iniziamo dalla visita oggi a gizzeria nel catanzarese con la deputata del partito democratico paola de micheli arrivata proprio in calabria innanzitutto per ringraziare quanti hanno sostenuto la sua mozione alla guida della segreteria del pd ma anche per mettere a fuoco quelli che sono i punti critici del futuro che riguarda proprio la nostra regione i temi cruciali dalle infrastrutture come la ss 106 ma anche l'autonomia differenziata un incontro destinato a ringraziare quanti in calabria l'hanno sostenuta dando forze corpo alla mozione risultata poi di minoranza paola de micheli ex ministro accompagnata dall'ex parlamentare enza bruno bossio sottolinea il legame profondo con la calabria rivendicando sulle infrastrutture un lavoro prezioso che non deve essere abbandonato siete aggiornati e lì non ci sono grandissime novità sulla vicenda della 106 ionica noi avevamo immaginato una fase di progettazione a lotti per completarla finanziata in dieci anni purtroppo il governo del centro destra ha deciso di diluire queste risorse in 15 anni strada facendo ci batteremo affinché si ritorni all'idea originaria per stringere il più possibile i tempi di progettazione e quindi conseguentemente di realizzazione l'aggiornamento sull'alta velocità come sapete la tratta non calabrese in gara è quasi pronta anche ad andare in gara la seconda tratta è in fase finale di progettazione la terza c'è in corso l'indagine geologica sull'ultima parte insomma c'è un lavoro importante con qualche piccolo ritardo qualche anticipazione qualche ritardo però le cose stanno andando avanti entra nei ragionamenti l'autonomia differenziata e soprattutto il ponte sullo stretto utile e necessario ma certo non come concepito da Matteo Salvini qual è il problema è che il decreto di Salvini corre al rischio che il ponte sullo stretto non si faccia perché primo perché ci ha rimesso di mezzo la società il ponte è un'opera talmente importante che la deve fare l'azienda pubblica che fa infrastrutture che è RFI ANAS cioè il gruppo ferrovie dello Stato c'ha la società di progettazione ha la società che fa le ferrovie ha la società che fa le strade e quindi quell'opera non deve essere appaltata ad una società che ha già dimostrato di non essere in grado per questioni civilistiche amministrativistiche per mille motivi di fare quell'opera secondo il progetto quel progetto è ambientalmente insostenibile insostenibile c'è da sbancare mezza villa san giovanni si distrugge mezza messina e insisteremo perché questa settimana scusate la prossima arriva il decreto in alla camera noi insisteremo col ministro per fargli capire che se davvero il suo obiettivo è quello di avere il suo nome nella storia delle infrastrutture italiane sul ponte sullo stretto si mettesse nelle condizioni di farlo per davvero a noi interesse che venga fatto ma che si faccia per davvero non che fra due anni stiamo ancora capo a dodici a proposito di politica un altro tour calabrese quello questa volta del sottosegretario all'agricoltura luigi deramo prima dell'incontro alla cittadella poi a crotone incontri importanti per ribadire l'impegno del governo in un settore cruciale per la calabria come quello dell'agricoltura e degli investimenti nelle infrastrutture guardi uno dei primi temi che abbiamo preso di petto è proprio quello relativo alle infrastrutture in generale e in particolare alle infrastrutture necessarie anche allo sviluppo agricolo i cambiamenti climatici come vedete stanno evidentemente mettendo in difficoltà parti del territorio nazionale chiaramente in termini di agricoltura abbiamo costituito da subito una regia una cabina di regia proprio per affrontare questo tipo di problematiche sburocratizzare per realizzare nuovi impianti per ammodernare rigenerare quelli esistenti il tema dell'acqua è un tema assolutamente centrale e quindi l'obiettivo è quello di riuscire a garantire una presenza di acqua per le aziende agricole durante tutto l'anno quindi su questo metteremo grandissimo impegno e credo che il governo abbia già dato una operatività importante purtroppo questo è un paese che negli ultimi trent'anni ha investito poco sulle infrastrutture e oggi non si può fare una agricoltura di qualità e anche di quantità se non potenziamo evidentemente il nostro sistema in rigua e intanto il governatore regionale nonché commissario alla sanità Roberto Chiuto nel corso dell'ultimo consiglio regionale è stato protagonista del question time l'occasione per il governatore regionale per rivendicare le proprie scelte le nomine fatte e soprattutto ha annunciato il riordino della rete ospedaliera entro maggio il mio auspicio è che entro il mese di maggio possano essere pubblicati sia il decreto di riforma del decreto commissariale 64 ed il riordino della rete ospedaliera sia il decreto che riguarda il riordino dell'assistenza territoriale lo ha detto il presidente della regione calabria in qualità anche di commissario della sanità Roberto Chiuto nel question time in consiglio regionale la discussione delle interrogazioni in realtà è diventata l'occasione per occhiuto di fare una sorta di informativa e di punto su varie questioni relative alla sanità calabrese secondo il presidente occhiuto infatti è necessario fare entrambe le cose per rispondere ai bisogni di salute dei calabresi un governatore che si è detto poi contento che la calabria abbia conseguito tutti i target della pnr salute il commissario alla sanità calabrese passa poi all'attacco in passato ha detto ci sono state sempre scelte sottoposte ai desiderata delle varie maggioranze troppo orientate al bilancino della politica più che alle competenze e al merito ma da un anno e mezzo con il nostro governo questo non è successo credo ha sottolineato il governatore di essere l'unico presidente di regione e commissario che non conosce i nomi dei direttori amministrativi e sanitari che collaborano con i commissari vorrei che qualche volta questo merito ci venga riconosciuto al centro di un'interrogazione la questione del nuovo ospedale di vivo valencia occhiuto ha spiegato che manca solo un passaggio che non riguarda la regione ma la procura e si riferisce all'utilizzo di fosso calzone ancora sotto sequestro ultima pagina andiamo a cosenza perché questa mattina il sindaco della città brucia franz caruso ha incontrato una delegazione dei residenti del centro storico a palazzo dei bruzi nei giorni scorsi lo ricorderete diverse auto avevano bloccato la strada a porta piana per chiedere la messa in sicurezza della zona dopo una recente frana avvenuta proprio nell'area sentiamo com'è andata crolli strade interrotte mobilità paralizzata era scattata nei giorni scorsi la protesta dei residenti del centro storico di cosenza diverse auto avevano bloccato la strada a porta piana per chiedere la messa in sicurezza della zona dopo la recente frana avvenuta nell'area ma anche maggiori servizi per quanti vivono il centro storico del capoluogo bruzio l'ultimo episodio aveva fatto montare la rabbia che già covava da tempo per lo stato di abbandono denunciato dai residenti dell'intero rione una sorta di ghettizzazione secondo i cittadini che vivono nel cuore antico della città e questa mattina dopo la protesta a palazzo dei bruzzi il sindaco di cosenza franz caruso ha incontrato una delegazione di residenti del centro storico e illustrato i progetti e i prossimi interventi per ripristinare la mobilità e ridare dignità al borgo antico della città dei bruzzi abbiamo illustrato ai cittadini di portapiana e lo spirito santo del centro storico in genere quella che so che è anche una tempistica che ci ha visto intervenire immediatamente per la messa in sicurezza dell'ultima frana del 7 aprile che è quella della fontana dei 13 canali e sarà messa in sicurezza nel giro di 7-10 giorni abbiamo già attivato la procedura rendis per ottenere il finanziamento per dare sistemazione definitiva anche a questa frana il 6 aprile abbiamo affidato i lavori per quanto riguarda l'intervento sulla strada di via petrarca chiuso ormai da anni anzi limitata al traffico da più anni con i semafori e a breve partiranno i lavori abbiamo finito le procedure di gara per l'appalto dei 6 milioni 950 mila euro l'appalto più grosso che interesserà anche e soprattutto via il corso vittorio emanuele quindi la riapertura di quella strada la messa in sicurezza di tutto quel costone la il rifacimento del modo di sostegno vicino alla chiesa di santa maria del conservatorio abbiamo fatto in un anno quello che non si è fatto in 12 anni chiusura del nostro otg andiamo al crotone per il seminario organizzato dal corso universitario di pedagogia dell'antimafia attiva nel dipartimento di cultura educazione società dell'unical e dall'istituto ciliberto di crotone tema centrale del seminario di questa mattina l'andrangheta al nord e la presenza sempre più ingombrante dell'endrine nel tessuto sociale ed economico i dettagli del servizio l'ultimo report della direzione investigativa antimafia nazionale relativo alle attività dell'andrangheta nel nord Italia per il primo semestre 2022 individua ben 46 locali di cui 25 in Lombardia e 16 in Piemonte numeri che confermano la forte presenza della mafia calabrese nella struttura economica sociale e delle terre padane di questo si è discusso nel corso del seminario organizzato dal corso universitario di pedagogia dell'antimafia attivo presso il dipartimento di cultura educazione società dell'università della calabria e dell'istituto ciliberto di crotone un incontro utile quindi per indagare le cause dell'affermazione mafiosa nel settentrione e le strategie di contrasto più efficaci al potere criminale e alla sua pervasività non c'è soltanto più la organizzazione mafiosa militare ma abbiamo un'organizzazione mafiosa imprenditoriale economico finanziario e soprattutto tecnologica la forza può essere comunque se parliamo di forza sociale deve essere portata avanti anche sollecitando come in questa circostanza i giovani se parliamo di forza dello stato è non abbassare mai la guardia non rimanere anche ancorati a modelli operativi e di intervento classici come siamo abituati a ragionare per questa ragione anche l'intervento operativo nei confronti della destrutturare le organizzazioni mafiose sta assumendo una qualificazione tecnologica anche da parte dello stato bene l'edizione di questa sera del nostro otg termina qui grazie per la vostra cortese attenzione adesso vi lascio i programmi dell'altro Corriere tv una buona serata a Grazie a tutti. Grazie a tutti.